Salve ragazzi bentornati in Bloodborne Un paio di cosette questa puntata è un po' un ritorno al passato Intanto ho trovato un piccolo pezzettino segreto sopra alla Catedral Ward Che mi ero perso continuando a farmare i proiettili Nell'ascensore c'è una piccola porta e vi farò vedere in questo video dov'è Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok mentre invece andremo oggi a riprovare in realtà Un boss che avevo già provato con la Playstation ma non essendo riuscito ad ammazzarlo non avevo postato il video E quindi niente vi riproporrò uno spezzoncino di tutte le morti che ho fatto con Ebrietas Un mio amico ha guardato un video e mi ha detto ma perché non sei andato lì e ora andremo a vedere perché non sono andato lì Allora qui mi ha detto perché non sono andato lì e si vede anche dietro ma si si vede dietro Bene Questa è andato lì e si it quoi to se ammazzarlo anche io andata lì e io andremo a vedere da sole Altare della disperazione Ok Oh 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 a me è una parte che proprio mi sta piacendo nemmeno quella di colpettino e via entro domani non è vero no posso usare questa tecnica via giusto oh 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 no Gesù Giuseppe e Maria oh 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 che brutto ma questo possibile mi deve riappare sempre oh, buon fattore ecco no, tu immagino, no non ce la farò mai eh lo sapevo io no ma dai ma vuoi scettare è giù un tratto ora oh un genio oh chi me l'ha ucciso io sono comunque da capo perché quel bastardo è morto come un cretino che sta a fare volte oh 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 non c'è il bambino era bomba fuori, non ci vedo nooo dai ma quando ha scioltato e non mi ha schiacciato la roba affanculo ok avete visto il gran culo che ci ha fatto ci siamo evoluti, lui è rimasto più o meno il solito e quindi andiamo a fargli il culo eccoci Carebrietas e Beotas Ancora non l'abbiamo imparato eccoci 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 ciao uff c'è ma ho ha scioltato ciao ciao eccoci 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 non è possibile non non si riesca eccoci 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 Maledetta la vacca Ok a questo giro proviamo la tattica elettricità Vediamo che cosa succede No Ok a questo giro Ok vediamo che banda è a questo giro Buon inizio Un ottimo inizio Un perfetto inizio Oh madonnina santa e benedetta Ok a questo giro Ok a questo giro Ok a questo giro No 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 Non ci credo Ci facciamo aiutare Perché Sono abbastanza stupro Allora io vorrei operare le anime E te vai tranquillo Ok a questo giro Grazie a tutti Muori così, merda di ebrietas, muori, faccia di cane Grande, grande, studioso di Mensis, grande, hai fatto il tuo Vaffanculo Ben due trofei E ora noi andiamo a vedere il nostro beneamato luogo di merda C'ho le palpitazioni, è abbastanza incredibile Ai 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 Ragazzi vi mi sembra tanto Mi sembra tanto una creatura del caos di Dark Souls Ai 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 Maledette ebrietas Allora vediamo nel tacuino dello studioso Cosa Cosa manca Cosa potrei mettere Ok Ebrietas Allora Pensavano è morta Allora incanniamo questo livello E almeno non ci si pensa più No, 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 no Allora Cainhurst dovrebbe essere qui Castello Seggio di Logarius Camera della regina di Vilsangue Qui In ginocchia Cacciatrice dal profumo di luna Noi siamo Anna Lise Regina del castello di Cainhurst Signora dei Vilsangue Nenica giurata della chiesa Le nostre genti sono morte Noi siamo prigionieri di questa abbietta maschera Di che cosa vai in cerca? Resta giuramenta Bene, bene Sei in vero una cacciatrice insolita Siamo stanche di queste notti patetiche Condividi la nostra pena Giura contro la chiesa Se vuoi percorrere questa via Sarai partecipe Del nostro sangue dannato Con più giuramenti Senti la fiamma della corruzione Che divampa Ora Fai parte dei Vilsangue Noi due Le ultime su questa terra Ok Rispetto Attenderei per lo no Allora Stemme delle guardie reali di Kennhurst Fedeli, custodi, tenenesi e rendenti del sangue Vilsangue sono cacciatori di sangue Allostante le cerche desideri del sangue I cacciatori si finiscono a loro Devono decidere se limitarsi Sfruttare la loro forza Unirsi anima e colpa A loro cause Mentre Per l'altra cosa Simbolo giuramento di Vilsangue Ma ecco perché non ci potevo parlare altre volte Che avevo fatto così Oh Questo è un Bel tavolino Ok Poi Prossimo passo Iosefka Vediamo cos'è successo Quella bagage Ma è sempre lì Oh Ma che cosa Cosa sono Sotto Dei che nausea Sta progredendo Ora vedo Lo sapevo Sono diversa Non sono una belva Dei che errore Ma non lo vedi Come si Quasi Io l'ho scritto Perché lo volevo fare Lo faccio L'ho fatto Terzo condone umbilicale Ne avevo già uno Ne avevo Tutti gli infanti Dei grandi esseri Possiedono questo precursore Del cordone umbilicale Ogni grande essere Perde il proprio figlio E ne brama Poi un sostituto Il terzo cordone umbilicale Ha accelerato L'incontro Con la pallida luna Che ha ricamato i cacciatori E dato origine Al sogno del cacciatore Usalo per ottenere intuizione O gli occhi Sull'anima Per usare un'espressione Di cui nessuno ricorda Per il senso Una grande riliepia Altrimenti conosciuta Come il cordone Dell'occhio Il rettore Willem Ha cercato il cordone Per elevare Se stesso E i suoi pensieri A livello Di un grande essere Fornendo Il proprio cervello Di occhi Era l'unico modo Per aspirare La loro grandezza Quora Josefka Queste pastiglie Della belva Ragazzi Ci sono state utili Non le ho mai usate Ma A questo giro Devo dire Che sono state Molto utili Che c'era Mi aveva perso qualcosa Sì Tutto a regolare Ok Ragazzi Anche Per oggi è tutto Abbiamo visto Finalmente Ebrietas Morto Anche se mi ha fatto Penare Ma penare tanto E Abbiamo preso il patto De Cainrust De Vilsangue Abbiamo ucciso Josefka E E niente Poi Proseguiremo Il nostro Il nostro Famiglio Nel DLC Perché Non è finito Anche se Quella stanza è chiusa Ma non è finito Sicuramente Quindi Ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 Ciao